Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse Io sono il buon pastore Il buon pastore dà la vita per le pecore Il mercenario che non è pastore al quale le pecore non appartengono Vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge E il lupo le rapisce e le disperde Perché un mercenario non gli importa delle pecore Io sono il buon pastore Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me Così come il padre conosce me e io conosco il padre E do la mia vita per le pecore E ho altre pecore che non provengono da questo recinto Anche quelle io devo guidare Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore Per questo il padre mi ama Perché io do la mia vita Per poi riprenderla di nuovo Nessuno me la toglie Io la do da me stesso Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo Questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio C'è una coincidenza provvidenziale Oggi giornata del buon pastore E noi partecipiamo all'ordinazione episcopale Del nostro nuovo vescovo Monsignor Domenico E abbiamo il cuore in festa Siamo in preghiera Invochiamo lo Spirito Santo su di lui Perché cresca la sua gioia E la sua voglia di donarsi Avendo sempre come punto di riferimento Il buon pastore Certo, noi sacerdoti, noi vescovi Non siamo il buon pastore Però lui vuole farsi rappresentare Attraverso queste figure di servizio Pensate che nel linguaggio del Moho Testamento Ad esempio Non si usa mai una terminologia Presa dal mondo giuridico Oppure imprenditoriale Ma quando si parla delle guide della comunità Si usano termini che hanno a che fare Con la pastorizia direi O la pastorale Termini molto comprensibili Ai contemporanei di Gesù Addirittura è di Dio Che si dice che è il pastore Il pastore vero delle pecore E c'è tutta una serie di verbi Che descrivono la sua premura Allora colui che è guida nella comunità Deve ispirarsi al pastore buono E deve ispirarsi a quello che fa Dio Che accompagna, nutre, recupera Rialza, si prende cura Eccetera, eccetera Verbi ognuno dei quali andrebbe centellinato Ma prima di commentare questo testo Bellissimo Preso dal capitolo 10 di Giovanni Devo dire qualche cosa del contesto Come siamo abituati a fare di solito Ebbene Questa pagina di Vangelo Sta fra due avvenimenti Che danno una colorazione un po' inquietante A questo brano Che sembra così bucolico Il buon pastore, le pecorelle, eccetera, eccetera In realtà nel capitolo precedente Gesù è venuto a una polemica forte Con le guide di Israele Lui ha guarito il cieco Cieco nato, pensate un po' Il quale vede Gesù E proclama Senza averlo mai conosciuto Proclama Gesù come Messia Invece le guide del popolo Rimangono nella loro incredulità Vedono con la vista, sì Ma non vedono In Gesù Il Messia Allora Questo è il primo nucleo Da cui scaturisce La pagina di Vangelo Che abbiamo letto Poi subito dopo Ce n'è un'altra E abilmente Giovanni Incastona per così dire Architettonicamente Nel suo Vangelo Questa pagina Mettendola anche in riferimento Quello che sfoglierai dopo Quando prenderai in mano il Vangelo Ed è la festa della dedicazione del Tempio Bene In quella circostanza La liturgia giudaica Prevedeva La lettura di Ezechiele Capitolo 34 Un capitolo interamente dedicato Ai pastori di Israele I quali dovrebbero avere come riferimento Il buon pastore Dio E lì in quel contesto Si parla anche di una promessa La promessa di un pastore grande Certamente In quella pagina di Ezechiele Si fa riferimento A Mosè Che veniva considerato La grande guida di Israele Davide Che era pastore di professione Poi è diventato Pastore del suo popolo Come re Ecco Gesù allora Fra queste due Situazioni Arriva a Autoproclamarsi Come buon pastore Io sono il pastore Sarebbe alla lettera Quello bello Come dire Non ti sbagliare A scegliere il pastore Scegli quello bello E dov'è la bellezza del pastore? Certamente Gesù è stato sicuramente Un bell'uomo Sicuramente Affascinante anche Ma la bellezza Di Gesù è altra Voi lo capite bene E io la vedo racchiusa Nel suo dare la vita Guardate Per cinque volte In questo Sono dieci versetti Più o meno Per cinque volte Lui parla Del dare la sua vita Dare la sua vita Per le sue pecore Ho sottolineato La preposizione Per Perché Ha un significato Sicuramente Oblativo Sì In greco La particella È Per Con delle sfumature Però Dà la vita Per le pecore Perché ne hanno bisogno Quindi a loro vantaggio Perché intuisce Che hanno delle necessità Poi Dà la vita Per le sue pecore Perché si fa avanti Perché sono minacciate Sono in pericolo Allora Per così dire Prendi il loro posto Ci vado io Per voi A combattere Con i lupi Parleremo dopo Della fortezza Di Gesù Come pastore Attenzione allora Lo ripeto Non sbagliare pastore Oggi ci sono Tanti pastori Presuntuosi Persone che Presumano Di indicarti Le soluzioni Persone Ma Attenzione Che non siano Dei mercenari Perché qui Gesù Per far emergere La figura di lui Come pastore Parla del mercenario Chi è il mercenario Beh uno che Sta con le pecore Magari una Professionalità Ottima Forse anche Migliore del pastore Se vogliamo Ma non c'è il cuore Il buon pastore O il pastore bello Invece ci mette Il cuore Per le sue pecore Il pastore Si mette in gioco Fino a un certo punto Perché quando Arriva il lupo Se la dà a gambe In fondo Le pecore Non gli appartengono Invece Gesù Rimarca Le pecore Appartengono Ma anzi Gesù colloca Il suo rapporto Con le pecore Dentro il rapporto Più grande Che lui ha Con il padre E lo spirito Perché parla Di una conoscenza Che lui ha Delle pecore Che è come La conoscenza Che lui ha Con il padre Che il padre Ha con lui Già E questo è un tema Frequente Nel Vangelo Di Giovanni Qui è per così dire E anticipato C'è questa Circolarità Trinitaria Bene Quelle pecore Sono introdotte In questa intimità Ma pensate Che immagini Belle Insomma Affettuose Ma anche Promettenti Di vita Vorrei anche Fare una piccola Sottolineatura A volte Sfugge Questo pastore Buono O meglio Bello Perché buono Questo pastore È anche forte Pensate Che si allude Ai lupi E qui Anche dove Mi trovo io Adesso Sento I nostri vicini Di casa Che spesso Parlano dei lupi Non fanno male Alle persone Però Agli animali Sì Allora Il pastore Si prodica Per loro Si prende cura Mi viene in mente Anche un'altra pagina Di Vangelo Ricordate Quando Gli apostoli Sono nella barca In mezzo al mare Vangelo di Marco E L'acqua Travolge La barca Queste due ganascie Di acqua Che sembrano Quasi Inglobare La barchetta Che a malapena Sta a galla E Gesù Dorme Sulla barca E gli apostoli Apostrofano Gesù Con questa espressione Ma a te Non ti importa Di noi Come no Gesù Gli importa Dei suoi E si sveglia Forse ha voluto Vedere Come in un gioco D'amore Il loro Reclamare Attenzione Il loro Desiderio Di essere Curati Da lui E Gesù Obedisce Alla tempesta Al mare E torna Alla bonaccia Gesù si prende Cura Di noi Concludo Mandando un saluto Ideale Al nostro Vescovo Domenico Come dicevo All'inizio Forse Ascolteremo In viaggio Questo flash Di Vangelo E Pregheremo Tanto Per lui Fin da adesso Gli assicuriamo Tutto il nostro Affetto Tutta la nostra Fiducia E grazie Grazie al Signore E grazie anche Al Santo Padre Papa Francesco Che ci ha mandato Mi viene da dire Come lo chiamano Nella sua parrocchia Il nostro Don Mimmo Ciao Buona settimana Ma c'è un'altra cosa Che vorrei dirvi Prima del saluto Non vorrei che Si facesse come Le pecore Che scappano E cioè Vorrei ricordarvi Che domenica È anche la giornata Mondiale Di preghiera Per le vocazioni Chiediamo il dono Di pastori Bravi Santi Generosi Con il nostro Il nostro popolo Ne abbiamo tanto bisogno Però Anche tutte le altre vocazioni Direi di più Delle famiglie Cristiane E che ognuno Possa riscoprire La dimensione Vocazionale Della sua vita Perché tutti Siamo dei chiamati Tutti abbiamo delle responsabilità Tutti Dobbiamo prenderci cura Di qualcuno Ciao Buona settimana Ciao